La situazione più complessa riguarda la Irce Cavi di Guglionesi, storica fabbrica del nucleo industriale che impegna oltre 90 addetti. A fine anno scadrà la cassa integrazione in deroga e c'è la possibilità di prolungarla per altri 5 mesi. Tutto dipenderà dalle strategie dell'azienda chiamata a decidere sul futuro dei dipendenti, molti giovani con famiglie in monoreddito. Il tema grosso è quello che faremo dopo maggio, visto che gli ammortizzatori sociali classici si possono riattivare non prima di ottobre 2015, perciò abbiamo una finestra ampia. Io penso che a questo punto l'azienda farà delle riflessioni anche rispetto al mercato. Speriamo che ancora la voglia di puntare su questo sito dove la professionalità è alta e i lavoratori in questi sei anni si sono messi a completa disposizione anche per venire incontro a tutte le istanze e le esigenze aziendali. Per mantenere oltre 130 posti di lavoro alla Vibac, dopo il periodo di cassa integrazione straordinaria, sono invece scattati contratti di solidarietà, soluzione necessaria che darà ossigeno ai lavoratori anche in vista di un piano di rilancio della fabbrica che produce nastro adesivo. Questi contratti di solidarietà che sono già partiti da 4 ore di novembre, avranno decorrenza da questa data per due anni e ci consentiranno di mantenere i livelli occupazionali, di dar modo all'azienda di poter finire il programma anche di ammodernamento dell'impiantistica che c'è all'interno della struttura per sperare in un rilancio importante. Uno scenario, quello del nucleo industriale dove sono diverse le aziende in crisi ma non si escludono possibilità di investimenti per altri impianti. Il segretario regionale della Wiltec ha interpretato così le prospettive sul territorio. Se l'ITT opziona il terreno io devo pensare che vogliano chiaramente rimanere sul territorio addirittura ingrandirsi. La Momentiv e la FIS hanno presentato dei progetti per ampliare i propri siti e soprattutto per migliorare il livello tecnologico interno. A questo punto io penso che se gli enti locali coglieranno l'opzione importante di questi siti che da sempre appartengono alla storia del nostro nucleo industriale probabilmente a termoli potremmo incominciare a invertire la tendenza. Grazie. Grazie.